Dopo la brutta sconfitta all'ultimo secondo in casa del Modena bisognava reagire e come dico sempre quando si cerca di fare un percorso di crescita anche le vittorie sporche o comunque le vittorie con un solo gol di vantaggio sono sempre molto importanti e oggi siamo riusciti a vincere per 1-0 contro l'Aquila Montevarchi grazie ad uno splendido gol di Arena che si sta confermando ancora di più un giocatore a parer mio fondamentale per le sorti della squadra Rosso-Blu. Non è stata una partita secondo me difficile o meglio ho visto una squadra sempre sul pezzo è stata una partita fondamentalmente equilibrata fino all'episodio dell'espulsione del loro giocatore nel secondo tempo da quel momento in poi la partita è stata secondo me agevole perché comunque non hanno avuto la forza mentale e tecnica per poter provare a rimontarci e siamo riusciti a mantenere il risultato di vantaggio fino alla fine. Come ho detto dopo una sconfitta come quella di Modena era facile vedere una squadra magari impaurita o comunque disunita non tanto perché appunto non c'è collaborazione tra i giocatori ma perché sono quelle sconfitte che un po' ti buttano giù di morale perché come ho detto giocare una partita di buon livello e perdere all'ultimo secondo farebbero sicare chiunque. Invece posso dire che oggi ho visto una buona reazione da parte dei giocatori che sono sempre stati sul campo diciamo non si sono mai disuniti e hanno comunque dimostrato alla fine di meritare la vittoria. Una cosa che non mi è piaciuta particolarmente perché oltre alle cose positive bisogna dire anche quelle che non mi sono andate a genio è il fatto che abbiamo provato tantissimi cross in mezzo all'aria ma purtroppo non sono mai stati sfruttati come si deve. Vuoi per imprecisione dei cross vuoi magari per posizionamenti non proprio eccelli dei nostri attaccati diciamo che questa è una caratteristica su cui migliorare perché comunque le partite si vincono anche in questo modo. La vittoria è arrivata comunque perché come ho detto Arena è un giocatore secondo me fantastico e speriamo di tenercelo in casa il più a lungo possibile però anche queste caratteristiche bisogna un po' migliorarle perché partite magari più bloccate in cui non ci sarà la giocata del gran giocatore a risolverla anche un colpo di testa sporco in mezzo all'aria può servire per raggiungere il risultato. Come ho detto però sono soddisfatto perché per me vincere e comunque tornare alla vittoria in casa è sempre importante all'inizio avevamo fatto quel filotto di vittorie vincendo 4 a 0 3 a 1 3 a 0 quindi comunque avevamo creato una sorta di fortino in casa rosso blu poi ci siamo un pochino persi poi abbiamo ottenuto purtroppo la nostra prima sconfitta contro il siena non abbiamo fatto prestazioni convincenti c'è stato quel periodo che tutti quanti ricorderemo qualche settimana fa in cui non riuscivamo più a vincerne una abbiamo vinto con la pista iese all'ultimo ci siamo beccati la sconfitta all'ultimo col modena e oggi abbiamo vinto 1 a 0 attualmente siamo settimi in classifica a 26 punti che è comunque il nostro obiettivo cioè restare tra le prime 10 e almeno provare a lottare la promozione attraverso il difficile filotto dei play off che è praticamente un campionato a parte ma per me questo è l'importante per me è importante darsi continuità riuscire ad avere consapevolezza dei propri mezzi e cercare anche di migliorare quei piccoli difetti che abbiamo dimostrato finora io credo che questa squadra sia di buon livello l'ho sempre ripetuto oggi lo come ho detto era una partita da vincere in ogni modo per reagire alla brutta sconfitta col modena e per dimostrare a tutti quanti che noi ci siamo adesso ovviamente non dobbiamo fermarci dobbiamo andare alla prossima partita sempre con la testa sulle spalle e consapevoli dei nostri mezzi l'importante però è che i giocatori riescano a capire bene i dettami del nostro mister perché sono convinto che con lui possiamo andare lontano finora la sua esperienza il suo ritorno a gubbio è stato un po' altalenante non certo per colpa sua perché comunque soprattutto negli anni passati non avevamo una rosa di grandissimo livello per poter puntare a qualcosa di più della semplice salvezza tranquilla quest'anno secondo me il nostro obiettivo minimo e lo dimostrano i risultati come quelli di oggi deve essere rientrare tra le prime dieci dimostrare che comunque noi ci siamo e dare un po' di senso comunque allungare un pochettino il nostro percorso in campionato facendo anche solo un turno due turni in più ma almeno sperare di avere la possibilità di di arrivarci poi comunque secondo me questi obiettivi si raggiungono anche da partite come quella di oggi perché non è che devi vincere per forza 4 a 0 3 a 0 4 a 0 per poter fare un percorso di crescita per me si vince anche solo un a 0 anche solo con una semplice giocata e si va avanti così bene così prendiamoci questi tre punti per per andare avanti e speriamo ovviamente che il percorso in campionato diventi sempre più convincente perché sono convinto che noi non me la voglio gufare ma abbiamo tutte le carte in regola per poter chiudere il campionato dalla parte sinistra della classifica finora abbiamo fatto andate troppo deludenti e secondo me quest'anno non dobbiamo pensare a quello che abbiamo passato anche perché la squadra è stata nettamente migliorata ora dobbiamo dimostrarlo sul campo oggi abbiamo fatto una bella vittoria di quelle vittorie che servono per dare morale e classifica soprattutto e speriamo di continuare così fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo come sempre ovviamente ad un prossimo video ciao ragazzi alla prossima